Buonasera, ve lo abbiamo promesso. Siamo ancora qui con voi, nonostante il campionato di Serie D, perlomeno per quanto riguarda la Spala, perché c'è l'appendice dei play-off, è terminato. Ma noi siamo qui oggi, saremo qui anche il prossimo lunedì. Logicamente non solo per parlare di Spala, anche se quello che accade in Casa Bianco Azzurra è sempre il tema portante dei nostri appuntamenti del lunedì. Come dimostrato dal fatto che questa sera abbiamo qui con noi Nicola Borsetti, tra i maggiori responsabili dell'organizzazione dell'arrivo della prima tappa della Mille Miglia nella nostra città. Arrivo previsto per la serata di giovedì. Tra poco vi spiegheremo anche ciò che succederà, non solo per quanto riguarda la passerella delle vetture della rievocazione storica della mitica Freccia Rossa. Logicamente parleremo di Spala e lo faremo con il direttore generale del sodalizio bianco-azzurro, Lorenzo Cestari. Buonasera a tutti. Ci aspettiamo qualche novità, lo sapremo tra breve, novità ci sono state nelle ultime ore. Al suo fianco una vecchia conoscenza dei tifosi spalline, ne ha fatte un po' di tutte, ne ha combinate di cotte di crude con la maglia della spalla e successivamente nel settore giovanile Franco Fabri. Al suo fianco, e poi vi spiegheremo il perché, il presidente dell'Unione Sportiva Acli San Luca Ferrara, Alfredo Corallini. Bene, ricordiamo anche come avete la possibilità di mettervi in contatto con noi, di farci conoscere il vostro parere sulle varie vicende dello sport di Casanosca. Lo potete fare inviando SMS al 342 3928 252, eventualmente ci potete anche telefonare allo 0532 908935. Un saluto anche al nostro Leonardo Romani, che ormai è impegnatissimo con il suo lavoro con lui. Ci rivedremo alla ripresa dei campionati, a meno che non ci voglia fare una sorpresa. Il prossimo lunedì. Ovviamente il tema di giornata è la situazione in Chiazaspal, in particolar modo per quanto riguarda la società. Raccontaci Lorenzo Sestari ciò che è successo, diciamo, nell'ultima 48 ore, da sabato fino a pochi minuti fa. Ma sei proprio un curioso. Più che sottoscritto, penso siano curiosi tutti i ferraresi. Beh, diciamo che quello che abbiamo già detto, la trattativa sta andando avanti in questi giorni, sta terminando, naturalmente non possiamo dire che la trattativa è finita, perché ci sono delle piccole cose ancora da mettere insieme, però penso che la trattativa a giorni, possiamo dire, potrebbe essere terminata. Oggi non lo è ancora. Scusate, però ci siamo molto vicini. Ma Vincent Candelà dov'è? Quando arriva? Ma Candelà uno di questi giorni arriva sicuramente. Penso che nella giornata di mercoledì o giovedì potrebbe essere a Ferrara, insomma, ecco. Per cui in settimana comunque sicuramente si farà vivo, insomma, ecco. Oggi abbiamo visto a Ferrara sia Marco Pontrelli che Giampiero Guaraccino. Quali saranno gli incadichi che assumeranno queste due persone che penso possiamo considerare i due bracci destri di Vincent Candelà? Sì, diciamo che Marco dovrebbe essere il direttore tecnico e l'altro il responsabile del settore giovanile. Oggi sono venuti proprio per vedere in Via Copparo i campi come sono messi e tutto il resto, gli spogliatoi e così via, il centro di addestramento. Sono rimasti soddisfatti perché hanno visto un centro di addestramento molto bello, i campi sono bellissimi secondo loro, per cui sono stati ben impressionati. Ha detto che è molto bello il centro, gli piace moltissimo. Non c'è dubbio che questo sia un gioiellino invidiato da tanti operatori del calcio, non solo italiano. Franco, tu sei nato e cresciuto in Via Copparo. Sì, la prima volta che sono andato lì è stato nel 73, perciò sono diversi anni che l'ho frequento. Chiaramente una volta era diverso anche perché il centro era di proprietà, era di palomasta, era una cosa un pochino diversa. Comunque ancora adesso il centro di addestramento è un posto sano, bello per far crescere i ragazzi nella giusta maniera. Nicola Borsetti, sembra che la SPAL, approfondiremo poi questo discorso anche con i nostri ospiti, finisca ancora in mani non ferraresi. Lo sappiamo, sei tifosissimo, a prescindere dalla tua passione per la Mille Miglia, dal tuo impegno con la Mille Miglia. Io se ti ricordi ho avuto anche una parentesi lavorativa all'interno dello stadio, ma sono ferrarese, tengo la SPAL e mi tengo costantemente aggiornato. Io credo che come in tutte le cose professionali e serie serva un progetto, serva un ciclo di lavoro. È chiaro che se si potesse scegliere si andrebbe verso una regia ferrarese, ma se questo non è possibile, ma la persona che viene a gestire la SPAL viene da fuori, se ha un progetto serio, professionale e soprattutto riesce a calarsi nella realtà ferrarese e riesce a vivere quotidianamente la città, credo che potrebbero arrivare dei grandi risultati e penso che si potrebbero avere dei grandi vantaggi a cascata su tutto il mondo sportivo e calcistico della nostra città. La SPAL è una squadra che muove tanta gente, io credo che bastano pochi risultati positivi, correggetemi se sbaglio, per vedere lo stadio pieno, a prescindere dalla categoria nella quale la SPAL gioca. Per cui per rispondere alla tua domanda non è troppo importante, è importante ma non troppo la provenienza della regia, diciamo della gestione, della regia organizzativa. Quello che fa la differenza è un progetto, un progetto professionale nel lungo periodo e non toccate fuga per cercare solamente una vetrina personale mosso da una mania di protagonismo che non porta da nessuna parte, tranne che ha dei vantaggi speculativi e utilitaristici. Non ci sono nemmeno. Ecco, sicuramente. Come legge Alfredo Corralini questa situazione? Tu che hai conosciuto Paolo Massa. Beh, è una situazione così che dà grossi dispiaceri agli sportivi ferraresi, soprattutto per coloro che hanno vissuto un'epoca diversa. E quindi io ricordo ancora i tempi di Massa, le partite con Milan, con l'Inter e soprattutto il pubblico festante che usciva dallo stadio sia di fronte ad una sconfitta sia di fronte ad una vittoria. E quindi, come dire, leggo con curiosità e soprattutto con attenzione questa possibilità. Ritengo così molto importante un progetto, perché senza un progetto non si va tanto lontano e soprattutto direi che in questo progetto devono essere coinvolte anche le realtà minori di Ferrara vera e propria. Cioè, se noi vogliamo riportare allo stadio il pubblico al di là dei risultati, secondo me devono essere investite anche le squadre che fanno da corollario alla città e alla provincia. Solamente in questo modo, secondo me, si riesce a dare un senso diverso alla SPAL o si può ritornare alla vecchia SPAL. Ecco, quest'anno, secondo me, è giusto quello che dice. Quest'anno, purtroppo, abbiamo avuto una macchina a proposito che sono andate a due velocità a prove di macchine. Abbiamo avuto il settore giovanile che quest'anno ci ha dato delle grossissime soddisfazioni. Abbiamo visto, ma oltre che alle soddisfazioni a parte la Juniores, gli allievi e così via, cioè, abbiamo visto anche nell'ultima partita della Juniores il pubblico che era animato, gli piaceva, cioè, il risultato di questi ragazzi che dobbiamo ringraziare sia i ragazzi ma anche i genitori di questi ragazzi che comunque, Franco, sa il sacrificio che fanno anche i genitori, però abbiamo visto quest'anno tutte le nostre squadre giovanili abbiamo grossa soddisfazione. Per cui si è visto il pubblico, cioè, basta poco dare al pubblico, alla gente, allo sportivo, anche col settore giovanile quel qualcosa in più per far arrivare la gente allo stadio perché l'ultima volta che ha giocato la Juniores 15 giorni fa in Via Copparo abbiamo visto un bellissimo pubblico ed è stata una grande soddisfazione per noi vedere il pubblico a vedere questi ragazzi incitarli tantissimo dall'inizio fino alla fine e siamo ancora lì perché sabato prossimo andiamo a Mezzocorona per cui anche lì ci giochiamo qualcosa e poi molto probabilmente, non lo sappiamo ancora, giocheremo il ritorno allo stadio. Stiamo guardando per farli giocare allo stadio se l'allenatore decide per farli giocare allo stadio. Sì, perché, Franco, qui non è facile fare la scelta dello stadio. C'è sempre il discorso scaramantico poi anche per i ragazzi può essere un incentivo può essere un qualcosa in più però uscire da quel tunnel sappiamo a quanti giocatori credi con lei? Certamente non uno con il tuo carattere. No, no. Uscire da quel tunnel è particolare sicuramente perché io ho giocato in tutti i strati d'Italia però ti posso garantire che una volta quando tanti anni fa ci giocavi in Serie B uscire da quel tunnel e uno stadio particolare come il nostro ti fa sentire veramente importante ti emoziona anche io ho parlato, ho avuto dei compagni squadra che è un caccato realtà anche più grande di Ferrara sentivano quando entravano in campo da noi anche quel pizzico di emozione anche di paura perché è un timore anche giocare nel nostro stadio che ci vuole una grande situazione e ci vuole anche una bella personalità comunque tornando al discorso di prima purtroppo Ferrara è un dato di fatto le persone che hanno possibilità così Ferrara ha dato sempre fuoco da questo punto di vista è inutile che noi giriamo attorno a questo questo è un punto e quest'anno però Colombarini si è ravvicinato sì, io, sì uno in 30 anni, sotto fuori uno non è che è una media abbastanza bassa ecco, io dico come quest'anno c'è stata anche la polemica dei ferraresi che giocavano non giocavano secondo me è sempre il campo poi che decide chi è ferrarese o chi non è ferrarese tra virgolette se non è questo punto di vista perché lì non è che uno è ferrarese deve giocare per forza diciamo che fa piacere ci sia un ferrarese in squadra beh, ovvio, io ti parlo da ferrarese perciò per me è un orgoglio vedere dei ragazzi come io mi ricordo Braiatti, Marchini, Laurenti, Piccolini quando avevano 11-12 anni che giocavano gli esordienti adesso vedrei giocare in prima squadra da noi quello è una grande sua infezione poi ti posso dire che anche negli anni passati negli ultimi sei anni con lo staff tecnico che ci ha precedente abbiamo ottenuto anche sul campo ma soprattutto anche fuori dal campo abbiamo ottenuto dei risultati importantissimi perché tanti ragazzi nostri sono andati in realtà molto più grandi voglio dire che abbiamo lavorato bene peccato che il lavoro sia stato interrotto quest'estate peccato io ti faccio un esempio io l'anno scorso avevo il gruppo del 98 con quello che è successo o forse potremmo andare via anche prima, non lo so però due sono a Firenze sono due che sono andati che sono a Padova uno che è andato a Bologna sono andato a Comessa tanto per dire solo il mio gruppo e tanti altri che poi ci sono persi sono andati in squadre di Serie B e di Serie A facciamo un breve break anche perché vorrei tornare sul discorso che ha aperto Alfredo Corallini relativo ai rapporti che ha la SPAR che deve essere sempre un punto di riferimento alle altre società del territorio ci fermiamo per la pubblicità poi torneremo con voi eccoci in studio dovremmo avere un ascoltatore in linea pronto? pronto? non riusciamo pronto? si buonasera chi parla? ciao Alessandro sono Luca ciao Luca prego ciao ciao saluto Franco sono Marzova fratello di Mirko saluto Franconi io ti ascolta vorrei dirti una cosa cos'è questo tutto accadimento verso Ben Asciuti io penso che Ben Asciuti abbia fatto quello che ha potuto Proveretto perché nelle sue possibilità altrimenti partiamo dalla terza categoria io non riesco a capire questo accadimento da parte dei tifosi tu hai capito cosa ti voglio dire allora l'unica cosa che vorrei dire Alessandro è questa una volta per tutte cerchiamo di fare un progetto che venga Candelà che venga Tizio Caer facciamo un progetto e portiamolo avanti negli anni altrimenti qui tutti gli anni siamo sempre da capo Mutelli e questo e quell'altro e quest'altro hai capito Alessandro quello che ti voglio dire è questo sempre un forza Spau ok anche in prima categoria o in terza categoria ciao 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 Luca questo è scontato fra l'altro leggo un messaggio che ci è appena pervenuto ma che progetto corrono dei gran soldi e fortuna nel trovare atleti forti diciamo che probabilmente questo è un interrogativo che giro sia Lorenzo Cestani ma tutti i nostri ospiti perché sono tutti profondi conoscitori di calcio forse serve più equilibrio serve la verità può stare nel mezzo perché diciamoci la verità tu puoi essere bravo finché vuoi ma se non hai una certa disponibilità patrimoniale economica se non hai le risorse ti trovi ad un certo punto a metà del guado come è venuto a trovarsi ben asciutti quest'anno perché tutto sommato io qui continuo a ribadire questa mia convinzione che questa era una squadra che se non fosse successo ciò che è successo si sarebbe ritrovato a lottare sino le ultime giotte del campionato per la promozione ma guarda Sandro io non voglio ritornare sulle cose vecchie perché non è giusto ma tu mi ci fai ritornare per forza per cui ti devo rispondere cioè noi ci dimentichiamo come è nata la SPAL cioè è nata con una persona che non voglio nominare è nata una persona che era arrivata qua aveva una certa quantità di denaro enorme diciamo sulla lingua aveva parlato anche con il comune aveva parlato con tutti si era partiti tutti in ritiro soldi di... poi alla fine alla fine è rimasto solo ben asciutti per cui voglio dire dobbiamo vedere anche la squadra come partita cioè non è che la squadra sia partita con ben asciutti soltanto con Ranzani e così via è partita in un certo modo per cui diciamo che era già partita con una ventina di giocatori 25 giocatori 6-7 persone dello staff cioè è partita in un certo modo cioè è partita male sotto questo aspetto poi dopo è andata peggio nel senso che questo signore abbiamo capito che i soldi non li aveva non li ha voluti mettere non mi interessa a questo punto però dopo è andato avanti qualcun altro per cui la spalla è iniziata così insomma non è che ci sia stata una gestione all'inizio ci sia stato un budget iniziale e così via si è partito in questo modo per cui all'inizio non c'era ben asciutti che era il presidente di questa squadra di calcio aveva iniziato il tutto è partito in un modo completamente diverso per cui questa è stata la partenza è chiaro che il prossimo anno sicuramente sarà completamente diverso è chiaro come dici tu che serve anche disponibilità per fare una buona squadra per Ferrara per la città che lo merita per il pubblico per tutti sicuramente però io penso che si possa fare una buona squadra un'ottima squadra anche spendendo meno insomma cioè non è detto che se spendi tanto vinci questo non mi sembra sia proprio così apriamo una parentesi poi torneremo perché visto che tu in questi giorni sei a contatto ti lancio già la domanda così ti puoi concentrare sulla risposta soprattutto con Marco Pontrelli avrai già intuito quelli che possono essere i programmi ma c'è un grande evento che ci aspetta che si ricompone a Ferrara in chiave un po' diversa rispetto alle ultime edizioni si torna un po' l'antico giovedì a partire dalle cosa succede e dove Nicola Borsetti mi fermo così tu hai tutta la possibilità di spiegare tra l'altro ero qui da voi anche ieri quindi spero di non annoiare il pubblico che ci segue da casa e intanto ringrazio la vostra emittente per ospitarmi sempre per presentare gli eventi che noi curiamo e vi rinnovo appunto l'invito a venire giovedì e a seguire la nostra manifestazione la Mille Miglia tappa di Ferrara anche attraverso i canali di Telestense mi consenti di iniziare con subito uno spot quindi ore 20 e 30 in piazza Trento Trieste parte la serata aspettando la Mille Miglia e ritorna appunto a Ferrara la Mille Miglia per noi una sorta di déjà vu nel senso che ritorniamo alla regia organizzativa appunto come studio Borsetti di questo evento che tanto abbiamo nel cuore perché lo abbiamo direi creato e gestito per 13 anni dal 1995 al 2007 abbiamo fatto una parentesi di 5 anni nei quali sicuramente Sandro non ci siamo riposati ma ci siamo dedicati ad altro tant'è che stiamo gestendo anche l'altra festa molto importante di Ferrara che è il Capodanno però circa un paio di mesi fa è capitato quello che poi ha portato oggi il sottoscritto ad essere qui cioè c'è stata una sorta di invito di una pressione che ha fatto anche molto piacere da parte della nuova proprietà della Mille Miglia Mille Miglia SRL insieme al partner logistico che è RCS Group che è l'azienda organizzatrice di eventi sportivi più importante di Italia questo lo dico perché è con grande onore con grande piacere che sono entrato a far parte di questa famiglia di organizzatori di eventi storici non solo automobilistici ma anche in settori diversi e quindi ritornando alla regia studio Borsetti direi che ritorno a un modello organizzativo che è consolidato nel tempo ho fatto una battuta ieri in trasmissione dicendo che circa due mesi fa quando sono rientrato da Brescia dopo aver avuto l'incarico per gestire l'evento sono rientrato nel mio studio e sono andato a spolverare un po' il vecchio programma che ci contraddistingueva nel recente passato e abbiamo iniziato grazie anche all'esperienza che abbiamo maturato in quegli anni a ricontattare tutte le aziende che ci avevano dato una mano all'epoca e quindi per collegarmi alla spalla che riscontro hai trovato è questo infatti che mi preme sottolineare perché da Ferrarese io sono Ferrarese sono orgoglioso di essere Ferrarese lavoro per la mia città lavoro nella mia città è chiaro che se devo dire grazie anche agli appoggi ai contatti con aziende fuori dalla città riesco chiaramente a dare continuità al lavoro della mia agenzia perché quello che diceva giustamente anche Fabri prima questa è una città molto difficile in cui lavorare soprattutto per la carenza di risorse e questa carenza si è acuita in questi ultimi anni a causa della crisi comunque a prescindere da quello che è sostanzialmente questo scenario che non è comunque da sottovalutare insisto nel dire che in qualsiasi attività e questo è il mio umilissimo punto di vista che sia una squadra di calcio che sia un evento che sia un'azienda ci vuole un progetto nel quale inserire delle persone competenti nel posto giusto perché se le inserisci competenti ma nel posto sbagliato possono creare dei danni e soprattutto un progetto nel medio lungo termine bisogna crearsi degli obiettivi una mission e soprattutto ricercare le risorse per mantenere questo stato di avanzamento graduale verso gli obiettivi e questo credo valga per la squadra di calcio le risorse sono fondamentali ogni tanto sbircio nei tuoi messaggi e vedo che molti sms gravitano attorno a questo problema qui mancano le risorse per cui quando uno si approccia mancano o non si vogliono mettere sul tavolo sul piatto non ce ne sono tante e forse quando ce ne sono non c'è quella giusta convinzione nel metterle sul piatto forse non c'è perché come dicevi te manca un coordinamento manca un obiettivo manca un'organizzazione manca fondamentalmente un progetto ma il progetto ma soprattutto come dicevo prima e su questo sono diciamo molto chiaro e ho un atteggiamento inequivocabile bisogna vivere la città nel senso che ci deve essere una grandissima sintonia una grandissima sinergia fra chi organizza nel mio caso fra chi gestisce una squadra di calcio nel caso appunto degli amici che mi stanno che sono in mia compagnia questa sera le istituzioni fondamentali perché chiaramente ti devono supportare gli sponsor e i partner che ti vanno a si vanno a inserire in questo mosaico organizzativo il pubblico perché senza il pubblico non si va da nessuna parte ma per poter chiamare il pubblico bisogna avere i risultati Tele Stense il resto del Carlino la nuova Ferrara estense.com in sostanza il mondo mediatico che deve accendere i riflettori nel modo giusto con il giusto atteggiamento critico perché i media sono fondamentali per dare visibilità a quello che un organizzatore o un presidente ha creato appunto in questa città non ho risposto molto alla domanda che mi hai fatto però era un discorso diciamo per un collante con i miei compagni della serata che stiamo vivendo Lorenzo ovviamente nello specifico della spalla e del calcio indispensabili sono poi i risultati per portare il pubblico al fianco della squadra quest'anno noi abbiamo portato comunque abbiamo fatto mille abbonati che sicuramente è un ottimo risultato per quanto riguarda la serie D anche se devo dire che per portare mille persone allo stadio quest'anno abbiamo fatto anche degli abbonamenti a un ottimo prezzo per portare le persone politica saggia sicuramente però voglio dire c'è stata anche la risposta perché mille abbonati mi ripeto sono tantissimi e poi nelle partite importanti comunque siamo arrivati anche a 2500 2600 persone che per uno stadio oggi di serie D è importante insomma squadre di serie C quasi alcune squadre di serie B sono arrivati a 2600 2700 persone per cui sono dati straordinari sotto certi aspetti però mi allaccio al discorso che faceva per cui è vero a Ferrara siamo pronti a criticare molto secondo me critichiamo un po' troppo e mi voglio togliere anche un sassolino dalla scarpa perché io personalmente sì io personalmente non l'ho sentito però una cosa me la voglio togliere ci sono persone che criticano con una certa facilità cioè alla tua trasmissione credo un 15 giorni fa c'è stato un signore che mi sembra abbia fatto il segretario di calcio importanti no io non faccio il segretario esatto che si è permesso di dire cioè queste le trovo stupidaggini e bisogna proprio che lo dica cioè nel senso che la SPAL non ha il telefono non ha il fax non ha questo cioè cose assolutamente non vere diciamo che c'è stato un periodo in cui c'è stata questa difficoltà qualche mese ma la difficoltà c'è stata per un motivo molto semplice cioè perché avevamo pensato di portare gli uffici totalmente da una parte e poi per vari motivi non li abbiamo portati ma non perché la SPAL non voleva il fax non voleva il telefono o altre cose si pensava di fare qualcos'altro per cui voglio dire arriviamo persino a queste critiche a che cosa servono cioè io mi chiedo cioè voglio dire viene la trasmissione invece di parlare di calcio parliamo del fax della SPAL o del telefono della SPAL cioè secondo me siamo veramente fuori dal mondo in questo caso e un sassolino che mi volevo togliere perché non lo ritengo giusto insomma ecco di uno che sa di calcio si esatto è chiaro che tutto ciò ha fatto con questo voglio dire scusa se ti interrompo abbiamo questa tendenza questa tendenza di dire la SPAL non fa questo non però voglio dire per fare l'abbiamo appena detto per fare una squadra discreta ci vogliono dei soldi nessuno si è fatto avanti cioè né a ottobre né a novembre né a dicembre e così via insomma per cui voglio dire è semplice criticare però lavorarci sopra forse è un po' più difficile se nessuno si fa avanti a Ferrara cioè voglio dire per cui vediamo anche nel senso buono cioè nel senso che dal niente abbiamo comunque costruito qualcosa abbiamo fatto bene nel settore giovanile crede e lo vediamo con i risultati per cui non è vero che non abbiamo fatto niente un'altra cosa che devo dire a Sandro devo dire che nessuno o pochi né i giornali né le stesse non è una critica ma una verità oggi abbiamo uno stadio bellissimo abbiamo l'erba che il campo è stupendo abbiamo detto che il campo il campo è bellissimo il terreno di gioco ad agosto luglio io quando sono cioè l'ho visto l'anno scorso era una cosa Lorenzo mi ricordo benissimo lunedì scorso parlando a ruota libera come stiamo facendo questa sera ho anche detto tra le varie cose che abbiamo messo sul tavolo ci auguriamo era quasi una raccomandazione era quasi un'esternazione mia mi raccomando che quel terreno che adesso è un gioiello non si ritrovi nelle condizioni in cui si è ritrovato negli ultimi anni perché era stato completamente abbandonato d'estate mi ricordo che era un discorso proprio che riguardava anche l'avvento postivile di Candelà e di tutto il suo staff ricordatevi che c'è anche il campo da manutentare noi in questi giorni il campionato è finito però se viene a vedere il campo non so se Franco l'ha visto in questi giorni cioè è stupendo mi ricordo che ho anche ricordato grazie al lavoro anche della ditta Alba Verde guarda quindi qui di questa cosa ne abbiamo parlato Alba Verde ma anche tutto quello che stiamo facendo abbiamo messo a posto tutto lo stadio perché se oggi viene a vederlo è stupendo è un bel bianco tutto bianco azzurro mi sembra che delle cose ne abbiamo fatte però da gennaio un po' i problemi ci sono stati non possiamo nascondere ma i problemi per l'amore di Dio i problemi ci sono stati è inutile negarlo non lo neghiamo però voglio dire nessuno si è fatto avanti però eh nessuno per cui è vero c'erano state anche delle promesse che come sempre a Ferrari come spesso si stavano arrivando tanti poi tu lo sai meglio di tanti altri cioè promesse tante ma sono rimaste promesse però eh non abbiamo avuto facciamo un po' di mille miglia ecco facciamo un po' di mille miglia poi torniamo torniamo a che voglio capire che cosa vogliono fare Pontrelli, Candela e Soghi va bene Nicola tu giustamente hai voluto far presente anche da imprenditore verso gli imprenditori cosa funziona e cosa non funziona a Ferrara noi vogliamo sapere cosa dovrebbe scusami scusi il condizionale funzionare giovedì sera da che ora e dove ma io mi auguro che giovedì sera si ritorni a parlare di Ferrara come città della mille miglia dopo Brescia anzi per certi aspetti città della mille miglia in senso assoluto come è stato detto da detti ai lavori e anche dalle parole questa frase è uscita dalle parole del presidente Gaburri presidente di mille miglia srl e di Roberto Salvador che è il referente logistico del partner di mille miglia srl ovvero di rcs group io qui vedo delle immagini e ti posso assicurare mi emoziono ancora perché sono cresciuto con questo marchio fin da piccolo quando andavo a vedere le auto con mio nonno sul montagnone e mi ritrovo averne gestite come imprenditore libero professionista sostanzialmente con la mia agenzia per 13 anni e adesso ritornare appunto alla regia organizzativa e noi abbiamo volutamente riportato in maniera molto forte e decisa la mille miglia nella sua diciamo nella sua location originaria che è appunto piazza Trento Trieste e ti devo dire questo è stato una dimostrazione di grande stima nei confronti nostri ma anche di grande affetto nei confronti della città e gli attuali proprietari e gli attuali gestori perché la proprietà è dell'ACI di Brescia e gli attuali gestori del marchio mille miglia sono tutti ex piloti navigatori concorrenti di mille miglia e si ricordavano queste questa moltitudine di persone nel centro storico di Ferrara attorno alle transenne attorno al centro storico si ricordavano di questa pedana che poi è stata definita il red carpet ferrarese consentitemi il termine su cui questi bolidi arrivano e attraversano la città e hanno rivoluto fortemente il nostro modello organizzativo perché si ricordavano appunto dell'atmosfera che rendeva Ferrara diversa dalle altre città Ferrara è sempre stata unica un modello organizzativo che è stato esportato in altre città sinceramente qualche volta abbiamo avuto l'occasione anche grazie alle collaborazioni con il tv di Brescia di vedere anche le immagini in diretta però sembrava che in Valeria Buffoni mancasse un qualcosa rispetto a quello che ti può offrire Corso Giovecca Piazza 33 lo diciamo forse un po' troppo da Ferraresi però devo dire che non a caso è stata definita la città la tappa vera e propria la città della Mille Miglia la culla la casa della Mille Miglia tu pensi che per 13 anni al Salone Internazionale dell'Automobile quando veniva presentata l'edizione dell'anno veniva proiettato nel museo permanente di auto storiche un video che presentava era uno spot promozionale dell'evento e davanti c'era una platea di credo quasi un migliaio di giornalisti che arrivavano da ogni parte del mondo la prima immagine di questo video era il castello Estense Piazza 30 Trieste e io lì da Ferrarese mi gonfiavo chiaramente il petto ed era chiaramente una palpitazione continua perché ero emozionato e andavo in rappresentanza di Ferrara per cui vedere la Ferrara ricordata in maniera così eclatante e da protagonista in tutto il mondo non poteva certo che farmi piacere per cui come dicevo prima l'appello è per tutto il pubblico appassionato e non di mille miglia venire nel centro storico a partire dalle 20 e 30 è una serata ricca di iniziative e anche di colpi di scena tra virgolette perché se state seguendo la campagna pubblicitaria che stiamo facendo capeggia un po' nel layout grafico un'immagine un'icona che fa appunto pensare presagire l'intervento di un personaggio del mondo dello spettacolo che io qui confermo ma non vi svelo il nome perché vi invito appunto a venire nel centro storico allestiremo anche in corso martire della libertà e in piazza Trento Trieste diversi mega screen attraverso i quali il pubblico potrà godere dello spettacolo anche quello che magari non riesce o riesce a occupare una prospettiva non troppo felice e questo è un investimento che stiamo facendo appunto per permettere a tutti di vedere lo spettacolo in maniera decorosa dicevo ci sono diversi punti fissi dell'arco della serata noi partiamo alle 8.30 ci sarà questa performance importante di questo artista che appunto arriva da lontano dico solo questo e viene con grande piacere perché quando gli ho illustrato che cosa facciamo Ferrara e di come è appunto la mille miglia nella nostra città è stato felicissimo di accettare di firmare il contratto per poter arrivare a Ferrara e appunto deliziare il pubblico ferrarese io immagino visto che continuate a tenere questa cortina fumogena su questo personaggio che sarà veramente un super big vediamolo insieme io ripeto è stato ed è un grande sforzo organizzativo perché come si diceva prima ogni cosa ha un prezzo per cui se si vogliono raggiungere determinati livelli di successo bisogna essere preparati consapevoli che certi investimenti bisogna farli altrimenti si rimane in uno stato diciamo non di livello superiore come quello che vogliamo appunto cercare di raggiungere ecco prima cosa succede vediamo un po' la scaletta in attesa dell'arrivo ci sarà chiaramente il Ferrari Tribute to mille miglia che è in sostanza un gruppo di 100 Ferrari che arrivano da ogni parte del mondo il 70% stranieri ed è proprio un tributo che viene fatto la mille miglia tu pensa che c'è stata una commissione a Maranello preseduta da Piero Ferrari che ha selezionato appunto personalmente queste 100 Ferrari moderne e chiaramente classiche che anticiperanno l'arrivo della carovana della mille miglia prevista intorno alla mezzanotte l'arrivo del Ferrari Tribute è intorno alle ore 23 durante questi due appuntamenti fissi nella nostra serata aspettando la mille miglia ci sarà appunto questo intervento di questo artista e una serie di iniziative non solo del settore inerente il settore automobilistico ma anche chiaramente il mondo diciamo culturale sportivo della nostra città quindi a connotare questo evento in maniera inequivocabile a dargli quel taglio di ferraresità ci penserà il sottoscritto che quest'anno condurrà per la prima volta sto cercando di farti le scarte piano piano non credo di riuscirci però ci provo insieme a me mi affiancherà e qui gioco in casa perché comunque si chiama Rossella Labate una giornalista di Auto d'Epoca organizzatrice di eventi pilota navigatrice è stata testimonial del museo Alfa Romeo per tanti anni ha organizzato diversi eventi di grande successo deve organizzare nel prossimo giugno il giro di Sicilia e tanto per dirti un nome ha corso per tanti anni la Mille Miglia con la giornalista di Rai 1 il volto del Tg1 Francesca Grimaldi è una persona molto competente una persona che sicuramente è stata felicissima una bresciana quindi qua conosce la storia conosce la storia ed è c'è questo consolidamento del gemellaggio fra Ferrara Brescia e la Mille Miglia poi io senza Sovrani e Mariotti e il gruppo di Terestense non faccio nulla per cui gli sclerotici di Gerontocomio assolutamente è una sorta di talismano diciamo così di porta fortuna a parte gli scherzi fa molto piacere dare una certa continuità al rapporto che abbiamo iniziato diversi anni fa con questa collaborazione perché proprio come dicevo prima se c'è comunque chi organizza chi si inventa un evento ma non ha dalla parte dalla sua stessa parte chi gli accende il riflettore che gli dà giustamente il giusto risalto rimangono eventi poco conosciuti e eventi che non vengono appunto valorizzati quindi per chiudere questa presentazione io informo il pubblico che andrà in Viale Cavour che quest'anno c'è il controllo orario quindi vuol dire che il timbro cioè la tappa Brescia-Ferrara si chiude come gara temporaneamente appunto in Viale Cavour quando ogni auto Viale Cavour che altezza per spiegare il palazzo della posta della posta centrali e quindi in sostanza dalle poste centrali fino al parcheggio notturno è una sorta di passerella di sfilata di queste macchine è l'evento dei record questa 31esima rievocazione storica perché le macchine sono sempre state 375 circa nel corso della storia e quest'anno sono 420 come dire chissà che ora andiamo a letto chissà che ora andiamo a letto quindi lo dico perché così ci aiuteremo a vicenda per cercare di stare appunto in sella fino tardi il parcheggio notturno sarà come nel passato in corso della Giovecca in Viale Cavour in Largo Castello e in Piazza Castello anche qui grande sforzo organizzativo perché questo è un evento che va nelle città e nei centri storici della città io mi auguro di limitare il più possibile il disagio alla città ma ci tengo a sottolineare che questo evento ha successo se rimane nel cuore della città e quindi quando parliamo di Firenze di Siena di Roma e di Brescia città dove arriva a parte si parla comunque dei centri storici e la Mille Miglia è abituata per storia e tradizione ad attraversare i centri storici ecco perché ho voluto fortemente con grande difficoltà lo devo sottolineare ritornare in Piazza Trento Trieste e qui devo ringraziare fortemente a proposito della sinergia di cui si parlava prima le istituzioni locali che ci hanno consentito di inserirci last minute in una location dove comunque ci sono tante altre manifestazioni quindi nel massimo rispetto dell'equilibrio con loro e non dimentichiamoci che Ferrara è ancora una città ferita dal terremoto dello scorso anno e ci sono delle zone off limits e molti lavori dovevano iniziare proprio in questo periodo e proprio per la Mille Miglia sono stati congelati e rimandati come inizio appunto di esecuzione per questo è stata una decisione che abbiamo condiviso insieme alle istituzioni chiaramente il patrocinio comune, provincia e camera di commercio regione Emilia Romagna c'è anche quest'anno e quindi un plauso anche alle istituzioni deve essere fatto a questo punto io mi auguro di trovare tantissima gente perché il successo dell'evento è il pubblico e il binomio di questa carovana di auto che arriva da ogni parte del mondo e il pubblico è fondamentale per lanciare nel mondo una cartolina della città estense è veramente indimenticabile ecco bene breve break poi i programmi Lorenzo hai studiato? sì sì ho studiato ti ho dato anche il tempo mi sono dilungato apposta perché così dopo puoi parlare sei stato gentilissimo eccoci in studio tanti messaggi sono soprattutto critici nei confronti della vecchia dell'attuale proprietà perché fino a prova contraria proprietà è 5% nella disponibilità di Roberto Ranzani 5% nel consorzio Spallo del Cuore e 90% nella disponibilità di Roberto Benasciutti c'è un messaggio in cui ci si chiede ma chi ha provveduto a pagare l'iscrizione l'anno scorso l'iscrizione e la tassa d'accesso diciamo al guarda a me risulta che il babbo natale non l'ho visto cioè io non ho visto nessun babbo natale tranne che Benasciutti che si è impegnato a pagarla cioè io un babbo natale non l'ho visto che sia andato a pagare 300 mila euro a fondo perduto se qualcuno l'ha visto o lo sa me lo dica perché sono curioso anche io a questo punto voglio essere un po' ironico perché mi sembra che veramente qualcuno parli così tanto per parlare insomma cosa succederà in questi primi giorni di contatto che avete avuto soprattutto con Marco Pontrelli che impressione vi ha fatto questo nuovo gruppo che lui sta rappresentando in questo momento guarda io sinceramente Marco l'ho conosciuto diciamo negli ultimi 20 giorni da un mese che lo conosco cioè è venuto a vedere la Spal diverse volte si è messo tra il pubblico prima era un emerito sconosciuto quando veniva a vedere le partite ma sì circa un mese un mese e mezzo che veniva a vedere le partite le prime impressioni sono ottime è sicuramente uno che capisce di calcio ma soprattutto anche di organizzazione di calcio le piace organizzare bene il calcio organizzare il tutto per cui oggi ho un'ottima impressione penso che sia una persona giusta che può venire a lavorare alla Spal ha un grosso entusiasmo e questo sinceramente in questo momento mi sembra che sia una persona adatta per entrare alla Spal per quel po' che lo conosco perché in un mese e mezzo non è che si può sapere conoscere una persona però mi sembra che le sue idee sono ottime Franco dei giovani che hanno fatto parte della Unioners quest'anno pensi che ce ne siano di maturi per contribuire a completare la rosa della prima squadra considerando che l'anno prossimo devono essere in campo un 93 due 94 e un 95 ma guarda senza fare nomi a parte mi ha comparato ciò ti avevamo già parlato qualche nome l'avevamo già fatto qualche ragazzo c'è interessante lo sta dimostrando sul campo adesso in prospettiva bisogna vedere poi se queste sue caratteristiche poi le metterà a disposizione anche nella prima squadra giocare con i giovani è sempre una cosa giocare in prima squadra allo stadio è un'altra però secondo me ci sono dei ragazzi molto interessanti noi ti conto che abbiamo abbiamo giocato un campionato unione nazionale che nessuno di noi conosceva perché negli anni scorsi facciamo campionati diversi con una squadra numericamente scarsa a livello di numero proprio abbiamo 14 15 ragazzi in più infatti ho sentito Franco che spesso e volentieri diceva non so chi mettere in campo domenica noi abbiamo sono 15 qui c'è ragazzi in totale uno che viene a febbre uno che ha un piccolo infortunio è chiaro che è vissuto in difficoltà poi abbiamo una squadra che in pratica è una squadra lievi noi giocavamo ogni domenica ogni sabato con 7-8 96 un 97 che è un primo anno lievi e due ragazzi del 94 o del 95 ecco c'è una squadra molto giovane bisogna fare i complimenti a questi ragazzi che sono stati bravi per tutto l'arco dell'anno a mister Massimo Barbiero che in pratica più in ora ha ottenuto il massimo ha ottenuto il massimo sia come comportamento fuori che come attenzione in campo giocando anche io visto diverse partite giocando anche delle ottime gare Lorenzo è vero che c'è stato anche un importante contributo garantito dai genitori dei ragazzi del settore giovanile a meno cui arrivano messaggi di questo tipo beh guarda allora il discorso vorrei fare un passo indietro e vorrei dirlo proprio pubblicamente noi quest'anno quando abbiamo iniziato col settore giovanile abbiamo fatto pagare una retta forse la più bassa di Ferrari in assoluto e credo che Fabri questo me lo possa possa confermare che è di fianco a me per cui voglio dire quando noi siamo partiti in altre squadre vicino a noi sicuramente la retta è molto molto più alta di quello che abbiamo fatto pagare noi anche voi fate pagare una retta la Cisanduca cioè è prassi consolidata ma adesso scusate ma se può sentire vengo io chiaramente alla spalla non è mai successo questo da quest'anno è una cosa diversa con la difficoltà del caso dell'inizio della stagione tanti ragazzi sono andati via abbiamo messo in campo questo e io poi gli ho spiegato anche al gruppo dei miei ragazzi mi ricorda quella riunione allo stadio io gli ho spiegato ma anche in separata sede con i genitori dei miei ragazzi gli ho spiegato guardate che adesso purtroppo il calcio non è più come una volta che c'era il mecenato adesso il calcio costa costa allora se il costo va diviso per cento è una cosa se il costo va diviso per una persona è un'altra cosa e allora i genitori stessi hanno capito perché poi sono tutti i ragazzi che vengono da solità della provincia o della città perciò che una retta una quota annuale la pagavano e chiaramente pagavano quasi il doppio di quello che pagavano da noi che hanno pagato da noi io poi gli ho chiesto anche io gli ho chiesto ai genitori se c'era qualcuno si trovava qualche sponsor così per darci una mano così e c'è stata anche una mano a questo punto di vista sono stati molto bravi i genitori perché hanno supportato anche il livello logistico portare i ragazzi in giro c'era una grossissima mano e senza di loro sicuramente ci faceva molta fatica a fare attività perché noi pensavamo di avere qualche mezzo in più che poi io sinceramente lo dico da ferrarese da spallino dei vecchi tempi adesso qualcuno mi dirà ecco tu torni indietro l'epoca non sono più quelli i momenti non sono più quelli però a mio giudizio questo lo dico a chiunque da domani dopo domani giovedì o venerdì sarà il copietario della spalla ci deve essere un obiettivo qui chiama in causa Alfredo Corallini che questa società si deve porre se non nell'immediato però in tempi moderatamente brevi la spalla deve riuscire a dotarsi di una struttura di un'organizzazione di una solidità economica tale da garantire ai giovani del vivario del settore giovanile che deve diventare una sorta di obiettivo per tutti i ragazzi del territorio quindi del comune e della provincia deve garantire un'autonomia totale so che ci sono costi che sono pesanti perché si parla di svariate decine di migliaia di euro quante squadre avevate quest'anno? quest'anno sei però scusa se intervengo sempre io è vero quello che tu dici però è anche vero che sotto ci sono delle prerogative che forse tu sai o non sai ecco ci sono delle aspettative che forse tu non sai c'è tanta gente che gira a livello di famosi osservatori chiamali procuratori chiamali come vuoi che vanno in giro adesso si chiamano agenti fifa tutti agenti fifa chiamali come vuoi che vanno in giro e vanno non vengono dalla società vanno direttamente a casa del ragazzo specialmente purtroppo questo va al costume ci sono ci sono delle regole io ti parlo dell'anno scorso non voglio andare indietro perché è una cosa che guardassi più indietro mi dispiace anche però l'unicente passato dei ragazzi che avevo io l'anno scorso quattro ragazzi avevano già deciso a dicembre che non rimanevano più perché erano stati lunsignati dall'altra società allora c'è un premio lì che va di valorizzazione alla società diciamo che le ha cresciuti questo premio è la metà che la spazio spenderebbe se l'anno scorso prendere un ragazzo da una società dietantistica la metà allora tu lavori porti in giro la società spende 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 maglie si porta si porta i ragazzi in giro lungo e largo fai i tornei la qualità degli attori se mi permetti forse anche c'è una professionalità c'è un'educazione io parlo c'è un'educazione perché se non c'è un'educazione è un rispetto delle regole ma da nessuna parte tu vieni a vedere qualche partita io non ti parlo degli unione ma con i bambini piccoli e vedi che l'educazione da fuori è molto scarsa ma che poi purtroppo è una cosa che non c'è perché si guardi il calcio per televisione ora anche questo sai è un aiuto che ti può dare perché ci sono delle regole che secondo me sbagliate che non valorizzano il lavoro che fai sul campo il punto di vista di Coralini in merito visto che da quanti anni sei nell'ambiente? dagli anni 60 70 quindi oramai è troppo tempo anche però io sono un po' non sono tanto d'accordo con te riguardo al discorso della quota io credo che così parliamo di SPAL eh parliamo di SPAL però consideriamo la SPAL attuale voglio dire non è più la SPAL purtroppo degli anni passati quando era in una categoria professionistica e quindi era come dire il punto di riferimento per tutti i ragazzi deve diventare questo è l'obiettivo questo è l'obiettivo però penso che oggi no nella situazione passata il chiedere una quota alla famiglia non sia poi anche da parte della SPAL non sia così una cosa uno scandalo uno scandalo una cosa fuori dalla normale secondo me è un modo per responsabilizzare la famiglia e anche il ragazzo poi è chiaro nel momento in cui si spera la SPAL possa crescere di gradino allora il discorso potrà essere affrontato in modo diverso però guardando la realtà attuale secondo me è un mezzo per responsabilizzare il ragazzo e la famiglia stessa e quindi non lo trovo una cosa fuori tanto dalla norma io credo anche questo che perché non lo credo tanto fuori dalla norma perché ugualmente la SPAL dà un qualcosa di più ecco allenatori più preparati campionati di un livello molto maggiore rispetto alle squadre dilettantische per cui io credo che in questa fase di passaggio non sia altamente negativo un discorso di questo tipo quindi diciamo un periodo di transizione in attesa che Franco la squadra arrivi cioè la SPAL arrivi dove tutti speriamo vogliamo desideriamo non so come mettere giù ma non ne possiamo più di vedere situazioni a prescindere a prescindere dalla categoria disastrate come quelle che sono state affrontate in questi ultimi anni perché veramente insomma da SPALINI da FERRAresi ci si sente anche demoralizzati ci si sente messi lì in un angolo in malo modo insomma comunque Sandro è vero quello che dici però tornando i discorsi prima forse era più diciamo lecito far pagare l'anno scorso che non quest'anno perché se tu guardi i campionati che facciamo l'anno scorso erano arrivi nazionali i giovanissimi nazionali i junior a livello qualitativo forse era meglio l'anno scorso se vogliamo guardare da questo punto di vista in prospettiva secondo me ci vuole una società seria che metta le persone giuste al posto giusto fare due cose tre cose ma farle bene senza l'odore a nessuno poi come in tutti i lavori ci vuole il suo tempo c'è poco a fare ci vuole il suo tempo chiaramente bisogna avere anche un po' di risorse economiche quello è indubbio però ci vuole il suo tempo indubbiamente non è una situazione molto semplice da affrontare Franco tornerei un attimo la riunione grandi risultati anche al di là delle attese con qualche punta di diamante perché non si può nascondere la qualità di un sorrentino di un genuario che poi si riesce a tenero genuario sì molto probabilmente sì quindi questa se non ero sorrentino viene da l'acri san luca san giorgio ne sono passati tanti giocatori dalle tue parti compreso un certo Matteo Ferrari poi non scordiamoci il bomber sannellato abbiamo tanti ragazzi c'è sannellato sicuramente il bomber principe ha fatto mi sembra quasi 30 gol ecco da una cosa in altra secondo me è un ragazzo che anche come carattere può tranquillamente secondo me può tranquillamente provare una prima squadra importante ecco di queste categorie poi abbiamo Sorrentino che è un ragazzo giovane nel 97 è un primo anno lievi che gioca contro ragazzi che hanno 3-4 anni più di lui che sta facendo molto bene poi abbiamo anche altri ragazzi tutti i ragazzi che sono lì ormai da 4-5 anni sono cresciuti lì con noi Sorrentino Agli Angeloni Mastella sono molti lì che abbiamo presi che avevano 10 anni hanno una cultura calcistica sicuramente un pochino di più professionale rispetto a altre società chiaramente la squadra è stata la squadra di punta della nostra provincia e ripeto hanno fatto un'annata finora straordinaria Sorrentino è vero che lo vuole la Fiorentina è vero che lo vuole anche la Roma adesso noi andiamo a mettere in giro tutte le cose se nel calcio hai fatto il 99% vuol dire tutto vuol dire niente perché poi ci vuole la firma quello 1% ti può fregare Sorrentino lo sono tutti andati in prova a Firenze è stato 4 giorni adesso vediamo cosa viene fuori sicuramente per lui è stata una bella situazione oggi si è parlato del problema Spal anche in consiglio comunale consiglieri dell'opposizione hanno chiesto chiarimenti rammaricandosi lo devo e lo voglio riportare del fatto che forse si sia un po' sottovalutata la proposta arrivata dal gruppo Bugarelli Colombarini fra l'altro è stato anche imputato al sindaco il fatto di non essersi di non aver seguito attentamente tutta questa vicenda perché in tanti non lo nascondiamo diciamo che la città è divisa Lorenzo l'abbiamo visto anche dai dibatti tra i tifosi c'è chi vede di buon occhio la permanenza di Roberto Benasciutti a prescindere da chi potrà poi essere il suo padre o da chi lui potrà affiancare e c'è l'altra parte che invece vedeva di buon grado l'arrivo della famiglia Colombarini cosa potrebbe accadere se le cose vanno nel migliore dei modi ci si dimentica tutto attenzione però per chi arriva che c'è questa spada di Damoc che prende sul capo perché l'anno scorso quando arrivò Benasciutti tutti ringraziamo Roberto Benasciutti che ci evitò la seconda e la terza categoria e per questo sono qui a ringraziarlo ancora fu l'unico che alla fine si rimboccò le maniche e decise di prenderci questo fardello sulle spalle quest'anno però questa alternativa c'era quindi io lo dico chiunque arriverà attenzione signori miei fate il vostro dovere perché quest'anno l'alternativa c'era io mi auguro ripeto che chiunque arrivi non ci faccia vincere il campionato perché sappiamo quanto è difficile vincere un campionato però riassetti tutto ciò che gira dentro e attorno alla spalla questo sì è un bonito questo che facciamo certo no ma mi piace questo cioè voglio dire però bisogna fare anche una piccola considerazione che è questa io penso che se ci fossero state le possibilità di fare questo matrimonio non penso che Benasciutti non l'abbia voluto fare io penso che per fare un matrimonio prima bisogna corteggiarsi fidanzarsi poi sposarsi faccio il cattivo faccio il cattivo faccio il cattivo non è che Roberto Benasciutti avesse già assunto un impegno nel confronto di Vercè in Candelà prima dell'unico incontro che poi c'è stato tra lui e Fabio Volgarelli perché c'è stata anche questa sensazione perché d'accordo prima si era parlato per interposte persone era arrivato a Roberto Benasciutti un'ipotesi di un'offerta di 120 mila euro poi quel giorno quando Roberto Benasciutti Fabio Volgarelli davanti all'assessore Luciano Masieri si sono seduti a quel tavolo praticamente si è avuta questa sensazione tant'è che anche quella offerta diciamo proprio buttata lì in caso di dire da Fabio Volgarelli perché ormai si era reso conto che difficilmente si poteva avviare una accadattiva superiore ai 300 mila euro non ha poi trovato alcun tipo di riscontro allora io ho detto prima che la chiusura con chiamiamolo così per capirci il gruppo Candelà non è ancora determinata per cui voglio dire se c'era uno spiraglio con la Giacomense io penso che Benasciutti per quale motivo qual è il motivo per cui Benasciutti non poteva farlo se non ha ancora chiuso a oggi con Candelà ci poteva essere un impegno morale diciamo ma no ma non c'era nessuno perché delle volte sai che una stretta di mano vale molto di più che una firma davanti a un notario o un avvocato ma direi che nel periodo in cui i colombarini non so come a questo punto solo tramite il comune o comunque tramite Bulgarelli hanno fatto questa offerta io credo che proprio l'offerta fosse talmente lontana e che non ci fossero proprio quella di 120 mila ecco dopo c'era la possibilità di arrivare non c'erano proprio le condizioni dopo però c'era la possibilità di arrivare sopra i 300 guarda io non voglio parlare di cifre perché non c'era ma faccio io non le fai tu le faccio io non c'era per cui non voglio parlare di cifre eventualmente Fabio Bulgarelli o la famiglia colombarini esatto credo che non voglio parlare di cifre perché non c'ero per cui non so risponderti però io credo che se le condizioni fossero state buone io credo che Benasciutti sarebbe stato il primo per quale motivo la famiglia colombarini e ferrarese ha la squadra in C2 e così via non vedo perché lui non dovesse aver fatto questo per quale motivo il motivo che Candelà non c'era cioè nel senso che aveva parlato anche con Candelà perché non bisogna dirlo con il suo gruppo però voglio dire non c'era nessun impegno non è che abbia impedito Candelà l'impegno con i colombarini assolutamente io credo che lì non ci sia stato nel fidanzamento e tantomeno il matrimonio forse c'era un altro problema dico forse poi mi devo tornare che c'è la pubblicità ovvero che l'avvento del gruppo rappresentato da Fabio Bulgarelli avrebbe totalmente escluso Roberto Benasciuti da una permanenza in società o quasi mentre con la presenza di Vincent Candelà avrebbe ancora un ruolo importante Roberto Benasciuti in società ci fermiamo ne parliamo dopo la pubblicità perché siamo in notevolissimo ritardo Alfredo Corralini uno dei motivi per cui ti abbiamo invitato questa sera è perché qualcuno festeggia 50 anni o sbaglio? è la realtà siamo nati nel 1960 siamo chi? beh la società in questo caso ma anche io ero già presente allora come pulcino giocatore e quindi mi sento di dire siamo nati e quindi celebriamo i 50 anni è una ricorrenza particolarmente importante vorremmo festeggiarla nel miglior modo possibile abbiamo due eventi particolari oltre a tutta una serie di attività che stiamo svolgendo e svolgeremo successivamente la prima è il 29 di maggio alle ore 21 alla Sala Estense celebreremo con gli atleti attuali con gli ex atleti dirigenti questi 50 anni la seconda cosa particolarmente importante è che stiamo preparando un libro che narra la storia di questi 50 anni e quindi un'impresa particolarmente impegnativa ma è un modo anche per dare soddisfazione a chi ha percorso tipo questi ragazzini degli anni 60 70 beh sì esatto questi sono beh no forse siamo proprio negli anni 70 in quel caso lì sì quindi ci saranno anche foto beh no abbiamo la prima foto il primo allenamento fatto nel 63 al campo del seminario io l'ho ritrovata per cui il libro si aprirà nella prima pagina con questa foto in cui eravamo 12 persone presenti l'allenatore e dopo pochi mesi no in settembre questo è stato in agosto del 63 abbiamo cominciato con il torneo dei campanili alla Sacra Famiglia abbiamo giocato contro l'Olimpia quartisana allora già in auge abbiamo preso credo 8, 9, 10 gol però l'entusiasmo è rimasto io penso che tutti i ragazzi degli anni 60 e 70 un piede in campo nel torneo dei campanili lo abbiano messo era una tradizione era uno dei pochi tornei che veniva il torneo delle parrocchie poi i campanili erano simbolo di parrocchie in quel momento gli oratori erano presenti ed avevano una grossa funzione e quindi è stato il primo torneo che l'Aclis San Luca San Giorgio allora si chiamava San Lucchese è il primo nome dato poi c'è stata un'evoluzione e oggi siamo come Aclis San Luca San Giorgio ci sarà il libro in distribuzione quindi la sera sì la sera stessa noi stiamo arrivando un po' all'ultimo momento ma questa è una caratteristica mia particolare però alcuni giorni prima lo avremo e quindi quella sera il libro sarà in distribuzione la nostra speranza è di poterlo già presentare alla stampa 3-4 giorni prima in modo da presentare anche l'iniziativa del mercoledì 20 voi avete avuto sempre un ottimo rapporto con la spalla tanti giovani sono passati beh i rapporti sono cioè già Nardello negli anni 70 è stato il primo giocatore che da dall'Aclis San Luca San Giorgio è andato alla spalla poi c'è stato un susseguirsi i rapporti con Cazzanti erano molto buoni e quindi ogni anno almeno 2-3 giocatori 12-13-14 anni passarono alla spalla il più famoso è Matteo Ferrari il secondo adesso non ricordo è il portiere che andò dalla spalla alla Fiorentina e che adesso gioca Manfredini che gioca in Serie C adesso credo almeno non ricordo se dove gioca non vorrei che fosse nella Reggiana a Reggio Miglia no c'era due anni fa non ricordo forse è andato a Modena adesso è a Modena adesso mi pare sia a Modena poi c'è stato Samut che ha fatto una decina di partiti in Serie C e quindi c'è una tradizione positiva potremmo dire ecco poi chiaramente oggi come oggi il vostro fiore all'acchello non è il calcio bensì la pallavolo correggimi se sbaglio no è la verità la pallavolo è nata all'interno della società sei anni dopo però ha cominciato così per tutta una serie di eventi positivi a come dire a vincere dei titoli provinciali e questa come dire questa attività è proseguita fino all'oggi e oggi facciamo la serie D femminile e proprio mercoledì sera ci giocheremo i playoff per andare più avanti verso la serie C poi con le stesse ragazze e anche con la squadra Mastile abbiamo già affrontato per diversi anni anche la serie C per cui come dire un impegno notevole ma anche tante soddisfazioni l'obiettivo principale vostro più che l'ottenimento il perseguimento dei risultati mi pare sia quello invece della regazione della crescita dei giovani in un ambito che è da considerarsi familiare altamente educativo questo è il punto di base è stato il punto di partenza ed è il punto di base oggi presente e quindi noi cerchiamo di valorizzare molto il settore giovanile sia in ambito calcistico che in ambito pallavolistico e qui potrei anche ricordare già la Solmi una ragazzina oramai ventenne che oggi gioca in B2 a Treviso e quindi come dire c'è una certa tradizione la Assi che è stata a Dozzano negli anni passati e quindi anche qui diverse ragazze hanno già ieri poi quattro nostri atleti hanno partecipato alle kinderia di Acesenatico ragazzine di 13 anni e quindi c'è come dire una cultura sportiva del mondo giovanile ma quanto è impegnativo a mantenere un movimento di questo tipo coordinare gli allenatori i collaboratori i volontari e i genitori è un impegno notevolissimo da diverse ore al giorno non di una persona sola ma diverse persone perché poi noi dobbiamo pensare che tra calcio e pallavolo abbiamo 16 squadre che giocano tra venerdì sabato e domenica quindi vuol dire circa 300 atleti impegnati durante la settimana con squadre che fanno 3-4 allenamenti alla settimana parlo della serie D in questo caso femminile di pallavolo eccetera quindi c'è un notevole come dire un notevole dispendio di energie e anche un notevole dispendio economico sono un problema i genitori Franco qualcuno dice che lo possono essere lo possono essere dipende se puoi sempre dal rapporto che tu hai con i genitori dei tuoi bambini basta mettere le cose in chiaro subito non c'è nessun problema qualche problema ci può essere chiaramente per l'amore di Dio però è importante far capire ai genitori che i ragazzi vengono lì prima di tutto devono essere educati devono rispettare le regole sono lì per divertirsi invece tante volte i genitori stessi pretendono dal bambino che non sbagli mai invece il bambino ha dritto di sbagliare perché è proprio sugli errori che può migliorare ma poi ha dritto di fare per sbagliare invece tante volte i genitori questo non lo capiscono ora dipende poi sempre da chi gestisse fargli capire che invece è una cosa normale e ci sarà una crescita in prospettiva ci accendiamo a chiudere Alfredo ricordiamo questi appuntamenti 29 maggio ore 21 sala estense quindi un momento celebrativo con presentazione del libro che narra i 50 anni di storia poi ci saranno i tornei di Paolo Pallavolo tornei si proprio mercoledì sera inizierà un torneo maschile di Pallavolo Open poi la sera dopo un torneo femminile Open il 19 il 19 avremo questo quattordicesimo trofeo Marco Munari con la presenza di nove società che vengono da tutta l'Emilia Romagna vi siete allargati quest'anno ci siamo allargati si quindi per celebrare in modo come dire ancora più legno la 21esima edizione del trofeo rosa il trofeo rosa il 31esimo trofeo Bellonzi e poi a San Giorgio stiamo disputando il torneo il trofeo San Giorgio in ricordo di Roberto Bottoni un nostro dirigente morto tre anni fa ed è che coinvolge bambini di dieci nove dieci undici dodici anni siamo veramente in chiusura quindi mercoledì o giovedì dovrebbe essere Candelà presente a Ferrara sappiamo che ha chiesto di incontrare anche Tiziano Tagliani il primo cittadino della città perché lui è il primo che vuole e deve rendersi conto di quali sono le intenzioni dell'eventuale nuova copietà della SPAC ripetiamo è un patrimonio della città vale il Palazzo dei Diamanti vale il Duomo vale il Castello hanno parlato della durata del loro impegno? sì diciamo che così anticipo un po' il loro progetto che hanno così che io ho dato un'occhiata velocemente si parla di 5 anni e non un progetto a un anno a 12 mesi o 24 mesi vogliono fare un progetto a 5 anni per cui mi sembra un progetto importante se mercoledì o giovedì vi raggiungi e incontrerà il sindaco credo che sia giusto che il sindaco conosca in 20 secondi mi dici perché secondo Lorenzo Cestari Vincent Candelà ha deciso di curarsi della Spal piuttosto che di altre società mi sembra semplicissimo penso che la Spal sia una delle squadre di calcio che ha una grande storia insomma credo che la Spal lo conoscono tutti Mazza ha insegnato a tantissimi il calcio come si fa il calcio per cui credo che la Spal sia sicuramente anche oggi anche in serie D ma i ricordi della Spal sono grandissimi penso per tutti chi ne sa un po' di calcio ancora il blasoni nonostante ci troviamo nel 2013 vedremo Nicola invece cosa vedremo in 30 secondi raccontaci perché giovedì sera dobbiamo essere tutti in piazza dovete venire in centro perché a partire dalle 20 e 30 inizia il galà mille miglia tappa di Ferrara deve essere una festa per tutta la città io mi auguro di vedere veramente tanta gente e di rivedere chiaramente quell'atmosfera che ha caratterizzato la mille miglia per tanti anni partiamo alle ore 20 e 30 andremo avanti fino a notte fonda oltre le tre senz'altro il galà mille miglia tappa di Ferrara all'interno della nostra struttura sul listone di piazza Trento Trieste l'istituto Bergani si occuperà dell'ospitalità di un settore il comitato Pietrevive della parrocchia di San Benedetto di un altro settore il grande egidio il grande egidio e poi anche l'istituto Inaudi un altro partnership importante storica che porta in centro tanti ragazzi per realizzare il video le interviste il servizio fotografico eccetera Ferrari Tribute a partire dalle ore 23 la mille miglia a partire dalle ore più o meno alle ore a mezzanotte mezzanotte e un quarto e poi questo grande ospite che arriverà sulla pedana sul palco sul red carpet di Ferrara siamo tutti coriologi 20 e 30 giovedì 16 maggio e la partenza Sandro venerdì giusto per parlare di orari molto facili alle ore 7.45 da Corso della Giovecca all'altezza di Palazzo Hermitage e ovviamente circa dalle 22 come tradizione non stop sui canali di Terrestense chiudiamo qui l'oddine appuntamento con Lunedì Sport ci auguriamo Lunedì finalmente di conoscere a chi sarà affidata la gestione la proprietà della Spal nella stagione 2013-2014 ci auguriamo anche eventualmente di avere qui al nostro fianco dirigenti e proprietari della Spal chiunque sarà e a questo punto salutiamo i nostri ospiti Alfredo Collarlini Franco Fabri Lorenzo Cestari e Nicola Borsetti ed ora è il momento della pesca con Massimo Rossi buona serata a tutti grazie a tutti